ciao a tutti e benvenuti nel video di oggi andremo insieme a vedere come realizzare questo motivo a zig zag punto cermon a legaccio facilissimo da realizzare si presenta da entrambi i lati nello stesso identico modo perciò lo possiamo andare applicare per diversi progetti in base al filato che andrete utilizzare potete andare applicare questo punto sia per i progetti estivi che per i progetti invernali è un motivo che si è adatto benissimo per delle gonne delle sciarpe ponce manteline copertine capelli capellini oppure anche per qualche canotta comunque la scelta veramente molto vasta il nostro motivo è multiplo di 12 mali e di un solo ferro noi per il nostro campioncino ora andiamo avviare 36 mali dedicate al motivo più una maglia di simmetria più due mali di vivagno quindi in totale per il nostro esempio per il nostro campioncino noi ora andiamo avviare 39 mali il primo ferro noi andiamo mettere la base per il nostro motivo quindi dovremo andare lavorare tutte le maglie a diritto la nostra maglia di vivagno noi la andiamo spostare le successive mali le andiamo lavorare a diritto entrando da di dietro in questo modo entrando in questo modo dentro all'asolina andiamo ricavare una maglia a diritto e così procediamo per tutto il ferro questo è il nostro ferro in cui mettiamo la base ed ecco qui abbiamo messo la nostra base e abbiamo anche evidenziato con il marco punto i tre blocchi del motivo in modo tale da riuscire a spiegare meglio abbiamo contato le maglie li abbiamo messi in evidenza partiamo quindi con la lavorazione e la realizzazione del motivo e vediamo insieme a questo primo e unico ferro del motivo partiamo quindi la nostra maglia di vivagno noi andiamo a spostare senza lavorare noi abbiamo la nostra maglia di simmetria che la andiamo lavorare sempre all'inizio del nostro ferro quindi non si sposterà sempre solo all'inizio la andiamo lavorare a diritto sempre entrando da di dietro dopo partiamo con le nostre 12 maglie dedicate al nostro motivo che andiamo lavorare in un modo particolare innanzitutto le prime cinque male del motivo le andiamo lavorare normalmente a diritto entriamo in ogni aso e ne ricaviamo un'unica maglia 1 2 3 4 5 primi 5 di 12 maglie sono state lavorate e ci troviamo al centro del nostro motivo ora qui in centro andiamo fare una diminuzione quindi da due ne andiamo ricavare un'unica maglia sempre lavorata a diritto dopo aver fatto la nostra diminuzione procediamo con la lavorazione delle maglie sempre normalmente a diritto visto che abbiamo fatto una diminuzione ora ci ritroviamo che abbiamo 11 maglie dedicate al motivo ma noi con ultima maglia dobbiamo andare ricavare ricuperare scusatemi la maglia diminuita quindi noi la ultima maglia del motivo la andiamo a lavorare in questo modo entriamo dentro all'asola da davanti ne ricaviamo due maglie quindi da una ne ricaviamo due in tal modo noi ricompensiamo la maglia diminuita e avremo sempre 12 maglie dedicate al motivo nonostante la diminuzione perché la diminuzione l'abbiamo recuperato con aumento con la ultima maglia quindi particolarità la maglia di simetria si fa all'inizio in mezzo si fa una diminuzione al fine si fa un aumento gli diamo anche il secondo blocco insieme noi abbiamo 12 maglie dedicate al motivo non c'è più la maglia di simetria perché noi abbiamo un'unica maglia di simetria che si lavora sempre solo all'inizio successive sono tutti da 12 andiamo lavorare le prime cinque maglie a diritto normale 1 2 3 4 e 5 siamo arrivati a metà in mezzo andiamo a fare una diminuzione da due ne ricaviamo un'unica successive maglie 1 2 3 e 4 li lavoriamo tutti a diritto normale e ultima maglia del motivo la andiamo lavorare in modo particolare dall'una ne andiamo ricavare due in tal modo abbiamo ricompensato il numero delle male e continuiamo portare avanti 12 male per il motivo ed ecco questa è la nostra lavorazione questo ci permette creare questo meraviglioso punto a zigzag davvero facilissimo concludiamo il ferro mantenendo questa tecnica della lavorazione ed ecco qui abbiamo visto come è realizzare questo meraviglioso punto facilissimo ora non si fa altro che si fa ripetere lo stessa lavorazione stesso ferro per tutta la lunghezza del nostro progetto adesso nel primo ferro abbiamo tenuto in marco punti per appunto sapere dove ci sono i blocchi ma dopo aver fatto due tre feri si possono togliere perché ormai si vedrà bene la linea che si creerà ed ecco qui come si presenta il nostro motivo anche con un filato fantasia dopo che abbiamo portato per alcuni feri appunto la nostra lavorazione di un unico ferro speriamo che questo motivo vi è piaciuto che siamo riusciti a spiegare tutti i passaggi in modo chiaro ovviamente se ci sono le domande ponete qui sotto che cercheremo di rispondere a tutti se non siete ancora iscritti al nostro canale iscrivetevi per non perdere tantissimi altri novità in arrivo in più non dimenticate di attivare la campanella nel momento in cui vi iscrivete oppure se siete iscritti per non perdere appunto i tutorial che escono grazie a tutti e al prossimo video tutorial